Location insolita per questa apertura e questo nuovo video dove andremo a confrontare queste due bestie che sono Xiaomi 13 Pro e Samsung S23 Ultra perché io ho già girato il video di confronto, ho già fatto tutte le mie considerazioni, sono partito in viaggio infatti e per questo non sono nel mio solito studio a Roma adesso e riguardando il montaggio, facendo un po' di editing e riguardando i file per appunto andare a creare il video mi sono detto no, devo proprio portare le persone che guarderanno questo video con me a vivere la stessa experience che ho fatto io su Lightroom andando a confrontare i file facendo un'analisi dettagliata con i file uno a fianco all'altro perché tra questi due telefoni il vincitore secondo me è netto ed è importante che vi faccia capire per benino il mio punto di vista quindi adesso godetevi il video, c'è già una parte di considerazioni generiche dove vado a marcare alcune differenze e preferenze personali che ho su questi due modelli, poi fra una decina di minuti ci ritroveremo qui ad analizzare i file RAW a vedere lavorabilità, confronto, tutto nel dettaglio sullo schermo del mio Mac Il destino mi ha portato a questa registrazione con un bel mal di gola quindi se piano piano la mia voce se ne andrà saprete perché ma è stato un sacrificio necessario perché mi è venuto ieri stando allo stadio all'Olimpico guardando la Roma femminile divertentissima partita con il Barcellona proprio questa ultima esperienza che ho fatto con loro due, in questo caso allo stadio mi ha aiutato ad affinare un pochettino il parere che ho di questo Xiaomi 13 Pro e questo Samsung S23 Ultra so che avrei dovuto portare anche Vivo X90 Pro Plus a questo confronto, me l'avete proprio direttamente chiesto e qualcosina forse l'ho fatta col Vivo e forse uscirà fra qualche giorno ma come faccio ad avere tutti questi smartphone e avere la possibilità di fare tutti questi confronti? ve lo spiego subito e dopodiché ci lanciamo a bomba su questo confronto con queste due bestie e si ragazzi perché anche questo video è sponsorizzato da Nando75 e da Phone Hero un punto di riferimento assoluto per la rivendita e l'acquisto dei vostri smartphone usati lo vedete spesso nei miei video, la qualità degli smartphone, lo stato degli smartphone lo vedrete anche in questo video e io chiedo a Nando dove possono trovare i ragazzi tutto il tuo parco smartphone a disposizione è molto semplice Vincenzo, per quanto riguarda la vendita online o un canale Telegram i ragazzi ci possono trovare anche su subito.it su Roma abbiamo un negozio fisico dove facciamo non solo la vendita, la permuta e facciamo anche assistenza e riparazione dei smartphone in tempi molto rapidi il negozio è Phone Hero e ci possono trovare in via di Bortezina 185 se intelligentemente dovete acquistare uno smartphone usato avete il vostro punto di riferimento vi lascio il link in descrizione, è il primo link che troverete prima di andare sul confronto qualitativo diretto, di mettervi le foto una a fianco all'altro il confronto delle ottiche eccetera eccetera voglio parlarvi un po' più in generale dell'approccio che hanno scelto Xiaomi e Samsung rispetto a quella che è la loro app stock, quindi l'app fotocamera di entrambi secondo me due delle migliori app presenti sul mercato prima cosa che le accomuna, di cui magari si parla poco ma che per me è molto importante innanzitutto è che si possono personalizzare, cioè posso andare a personalizzare l'interfaccia in termini di funzioni e posizionare le funzioni che mi interessano di più nell'ordine che preferisco questa è una roba che sembra una stupidaggine ma io nel mio metodo di lavoro l'ho trovata super super utile Xiaomi l'ho fatta un po' di tempo, Samsung non lo so perché li utilizzo molto pochi Samsung ma è una cosa che sono andato subito a cercare e che ho trovato dando un rapido sguardo all'interfaccia non appena aperta parliamo di lato foto, quindi modalità foto in automatico sono molto simili, preferisco un po' di più l'approccio di Xiaomi sia per la scelta dei tasti rapidi, dei 5 o 6 tasti rapidi messi in alto che per il mio utilizzo trovo più azzeccati ma anche perché ho poi un secondo menu a tendina prima di entrare proprio nel menu delle impostazioni che poi è dispersivo, bisogna leggere eccetera invece un secondo menu sempre composto da icone che compare nel momento in cui ho bisogno di qualche opzione in più entrambi ad esempio andando un po' anche a scopiazzare l'approccio di iPhone che però si basa proprio su questo hanno la modalità macro, la modalità notte automatica volendo quindi ci si può affidare al software e far sì che nel momento in cui riconosci uno scenario dove una modalità piuttosto che l'altra è necessaria secondo lui fai in automatico lo switch è una roba che trovo odiosa, assolutamente odiosa specialmente la modalità macro sia su Xiaomi che su Samsung che anche su iPhone è un fail totale uno perché è una modalità macro fail non c'è nessuna lente macro su questi telefoni semplicemente il telefono quando ritiene di dover fare una foto macro perché magari siamo vicino a un oggetto switcha sulla camera ultra grande angolare e ve la propone un po' croppata cioè ve la propone anziché a 0.6 a 0.8 se noi facciamo uno switch sulla 0.6 e con le dita zoomiamo un pochettino fino ad arrivare a un fattore di ingrandimento di 0.8 abbiamo il medesimo scenario quindi una modalità macro sempre farlocca di bassissima qualità e che soprattutto su tutti e tre i modelli vi garantisco si attiva ogni tanto quando non serve abbassando notevolmente la qualità del nostro scatto per la modalità notte è una modalità che semplicemente detesto non utilizzerei mai e quindi il fatto che mi si possa attivare in automatico distruggendomi in un'atmosfera notturna che voglio catturare è una roba che immediatamente vado a disattivare rimanendo sull'interfaccia in generale un punto a favore che voglio dare a Samsung è la presenza, la possibilità di fare la raffica di solito si fa dando una funzione al tasto volume ed è tipo tenendo premuto il tasto volume il telefono va a fare una raffica su Samsung si può fare, su Xiaomi non so perché dal 12 Pro dall'anno scorso in poi sta roba l'hanno rimossa è una bella bella mancanza magari voi la raffica non l'avete mai utilizzata in vita vostra valutate voi prendo sempre sulla valutazione delle due app ed entrando nello specifico nella modalità Pro di entrambe Samsung secondo me è un po' confusa sul da farsi perché propone due modalità una è scaricabile in un secondo momento si chiama Expert RAW o se no c'è una modalità semplice Foto Pro dove sostanzialmente ho le stesse identiche cose disposte in maniera un po' diversa nella funzione Expert RAW ho anche un paio di opzioni in più dedicate all'ottenere uno scatto in RAW con delle tecniche particolari che magari l'utente medio manualmente potrebbe fare si possono fare manualmente ma non sa fare la doppia esposizione quindi la possibilità di fare più pose per poi andare a unirle in un unico scatto o a questa modalità astrofotografia su cui Samsung sappiamo punta molto ecco in Expert RAW ci avete un paio di menu dedicati dove con due click impostate quello che dovete impostare e poi fa tutto il telefono e ottenete uno scatto RAW quindi è un bel vantaggio non vedo perché non metterle nella modalità Foto Pro che tendenzialmente poi è identica e invece creare questo switch che ho trovato molto molto inutile per il resto le interfacce sono molto simili io preferisco abbastanza quella di Xiaomi specialmente dopo il restyling fatto dopo la collaborazione con Leica mi è un po' più facile capire determinate cose vedere i valori fare i vari cambi muovermi un po' all'interno della modalità manuale mi è un po' più semplice per quanto riguarda invece la tipologia di file RAW che possiamo ottenere da questi due smartphone con lo Xiaomi su tutte e tre le lenti quindi su tutte e tre i sensori possiamo ottenere dei file RAW da 12 megapixel per quanto riguarda l'S23 Ultra invece abbiamo sul sensore principale la possibilità di avere un file RAW da 12 o da 50 megapixel e poi magari cerchiamo di capire cosa cambia e cosa conviene scegliere sull'ultra grande angolare abbiamo invece file RAW da 12 megapixel sui due teleobiettivi file RAW da 10 megapixel con quello che sulla carta è un grosso vantaggio per Samsung ovvero che sul sensore principale in termini di profondità colore possiamo ottenere dei file RAW dei DNG da 16 bit addirittura mi piace molto di entrambe le modalità pro di entrambi i telefoni che quando vado a settare un certo tipo di parametri sulle varie lenti ovvero se io setto la mia camera a 23 mm con una certa esposizione poi switcho sul teleobiettivo e metto una certa esposizione quando magari scattando velocemente e faccio questo switch a seconda di come mi voglio gestire un pochettino l'attimo i setup rimangono non devo ogni volta reimpostare la camera in passato si resettavano se ne cambiavi una poi ti ritrovavi gli stessi parametri anche sull'altra ma essendo i sensori diversi non funzionavano ogni sensore vuole a parità di scenario ogni sensore vuole un suo settaggio piccola carineria che ha soltanto Xiaomi per ovvie ragioni è il fatto che anche quando sono in modalità pro e scatto in raw posso comunque avere una copia JPEG questo anche sul Samsung ma averla applicandoci già come posso dirvi delle funzioni software pensate da Leica quindi il profilo colore Leica autentico o Leica vibrante di cui vi ho parlato nel video dedicato a Xiaomi ci sono una serie di filtri di Leica molto interessanti che posso già applicare in modo che questo a livello lavorativo funziona molto quando io scatto ho il mio file raw che con calma mi posso gestire ma se ho bisogno di un JPEG per un utilizzo veloce magari ho un JPEG già un po' più pensato e lavorato in una direzione che mi piace e che Leica su questo Xiaomi 13 Pro offre in maniera molto interessante perché hanno fatto un bel lavoro di calibrazione dei profili colore e dei filtri bene ci siamo tolti anche questa parte software andiamo a fare un confronto sulla qualità degli scatti voglio parlare subito di un paio di dipetti che ho riscontrato subito nei primi minuti insomma di confronto in giro per Roma il Samsung soffre tantissimo di flare che entra in macchina che colpisce l'ottica ma veramente basta un nulla tutta la gestione delle alte luci che stanno in campo io l'ho trovata molto molto peggiore rispetto allo Xiaomi specialmente se poi è una luce che colpisce direttamente la nostra lente e vi sto facendo vedere qualche esempio so che l'effetto flare può essere anche una scelta artistica divertente utile poi si può ovviare in alcuni modi insomma eccetera eccetera ma mi è sembrata molto invasiva qui molto molto invasiva così come rimanendo su una lettura generale che riguarda invece non le lenti di cui poi andremo a vedere anche come si comportano in termini di dettaglio ma il sensore metto a sfavore dell'S23 Ultra la velocità dell'otturatore la velocità di scatto in tutte le situazioni modalità automatica con buona luce e cattiva luce modalità pro con buona luce e cattiva luce raw 12 megapixel raw 50 megapixel col sensore principale con l'obiettivo 3x con le altre ottiche in qualsiasi situazione l'S23 Ultra è più lento a scattare ma non di poco guardate qua 1 è molto più lento il Samsung 1,2,3,4,5,6,6,7,8,9,10 ultima cosa rimanendo su una lettura un po' generale della qualità fotografica prima di entrare nel dettaglio dell'area ottica che voglio segnalare purtroppo è sempre un punto a sfavore ma questa volta una lettura molto personale che faccio per Samsung ho notato che in modalità automatica sostanzialmente l'HDR è sempre attivo non si può disattivare quella cosa che mi aveva fatto odiare i pixel quando tu vai a scattare ciò che vedi non sarà quello che ti ritroverà in galleria perché una volta aperta la galleria Samsung va in automatico ad applicare una serie di filtri di ottimizzazioni tra cui un HDR che io reputo molto pesante e che nella maggior parte degli scenari ovviamente non funzionerà in tanti scenari l'HDR è una forzatura uccide l'atmosfera tira fuori i mostri dal file semplicemente quindi non capisco perché applicarlo in maniera così violenta invece su Xiaomi è gestito non solo più intelligentemente perché ho la funzione rapida in cui lo posso disattivare come deve essere ma anche meglio sotto un certo punto di vista nel senso che tra i due quando ho l'HDR attivo il modo in cui me lo propone Xiaomi lo preferisco di gran lunga è molto più naturale fa un lavoro sulle alte luci ma non ammazza diciamo i toni scuri le ombre e di conseguenza l'atmosfera confronto diretto delle singole lenti e rieccoci al momento che sono sicuro da voi il più atteso perché andiamo a vedere finalmente i file in dettaglio al pc di questi due mostriciattoli andiamo a bomba su Lightroom io mi faccio piccolo piccolo iniziamo a questo confronto iniziamo con la camera 3x in questo caso qui secondo me abbiamo una prima grande differenza perché i due sensori della camera 3x sono molto diversi in termini di grandezza oddio molto molto in proporzione a quelle che sono le misure sugli smartphone oggi e quindi notiamo secondo me un dettaglio maggiore sullo Xiaomi lo potete vedere ad esempio qui la giacchetta di Michael e un po' tutto ciò che è il dettaglio in generale oltre ad essere una focale un po' più lunga la il 75 mm di Leica e di Xiaomi è proprio il fiore all'occhiello di questo telefono e si differenzia proprio rispetto alla concorrenza e rispetto al passato secondo me è uno scatto che secondo me nel complesso è più naturale rispetto a quella che era la situazione lì più giusto per quanto riguarda anche il mio gusto con le ombre un po' più chiuse sullo sfondo sullo Xiaomi che riesce a preservare anche le alte luci un frontone tra camera 1x quindi 23 mm a sinistra per lo Xiaomi 24 mm a destra per il Samsung ho testato qui 200 megapixel mentre sullo Xiaomi abbiamo attivato i 50 megapixel che è la risoluzione massima quindi valutate voi sui bordi ad esempio guardiamo questa S che è posizionata quasi al bordo del frame si perde un po' via la definizione di Samsung in questo caso quantomeno vedremo più avanti nella parte più centrale viene fuori da maggior nitidezza invece dei 200 megapixel secondo me vedete questa C da notare come in questo caso qui siamo sul punto e scatta modalità automatica l'HDR va a salvare ad esempio questo riflesso presente su questa lavagnetta un caso in cui l'HDR può servire funziona bene non distrugge l'atmosfera dello scenario anche perché è un quadro molto stretto e uno scenario composto da una luce abbastanza piatta in questo caso funziona abbastanza bene andiamo sui file RAW per questo scatto modalità PRO il RAW attivo e tutti i parametri lasciati in automatico però ho lasciato decidere l'esposizione al telefono qui siamo sempre con la camera 3x e notiamo come Samsung anche in RAW ci proponga una soluzione decisamente più aperta in termini di ombre quello che però mi interessava di questo scatto era vedere un attimo la gestione del recupero perché abbiamo appunto una zona molto scura che Samsung qua ha già praticamente risolto e poi a terra abbiamo il sole diretto che va un pochettino a bruciare questa parte di pavimentazione quindi se io provo a fare un recupero vediamo su Samsung ok più o meno ottengo questa cosa se vado a compiere la stessa cosa sullo Xiaomi il risultato è molto molto migliore a questo punto vediamo anche il recupero sulle ombre e andiamo a rifare il nostro confronto come vedete già da questo primo esempio la lavorabilità dei file dello Xiaomi in termini di recupero di alte luci e ci saranno degli esempi più eclatanti in questo è molto molto più alta e sulle ombre ecco adesso sono andato a recuperare il file rimane più morbido in qualche modo noto ma questo perché secondo me entra in gioco il fatto del sensore un po' più grande e quindi c'è uno stacco tra il soggetto messo a fuoco e lo sfondo e qui lo vediamo molto molto bene guardate il cartello alle spalle della ragazza a cui parcheggio sul Samsung è perfettamente a fuoco perché il sensore è più piccolo quindi la profondità di campo è maggiore sullo Xiaomi riusciamo già ad avere uno stacco di sfocato quindi questa foto è tutta a vantaggio dello Xiaomi ad esempio per quel che mi riguarda altro confronto camera principale sempre un forte controluce 50 megapixel per il Samsung a destra 12 megapixel a sinistra per lo Xiaomi vediamo ormai è una costanza costante non serve neanche più che io lo ripeta Samsung tende a disporre un po' di più in termini di sensibilità per avere più lettura nelle ombre Xiaomi invece tende a chiudere per preservare probabilmente le alte luci e vi dico quando si scatta in raw secondo me ripeto ha molto più senso l'approccio dell'intelligenza artificiale dello Xiaomi perché ora sicuramente farò molta fatica a recuperare le alte luci e molta meno fatica a recuperare le ombre andiamo a vedere sul Samsung questa zona chiaramente sarà irrecuperabile però se andiamo ad abbassare non succede quasi nulla si va subito ad opacizzare non c'è un recupero di dettaglio alcuno mentre sullo Xiaomi andiamo a fare la medesima operazione e come vedete comunque siamo a un livello di sovrasposizione molto alto che non riesce a compensare ma c'è stato un grosso recupero in termini di dettaglio e questa è una situazione estrema ci dice molto guardate che differenza sulle ombre sicuramente se io vado a toccare lo scatto di Xiaomi riuscirò a ottenere qualcosa di buono che tutto sommato risponde tra tutte e due insomma sul Samsung ho una riduzione del rumore pesantissima dettaglio sotto zero sullo Xiaomi sicuramente se la vado ad applicare proviamoci riduciamo il disturbo vi ripropongo Samsung a destra valutate voi vi rilascio a confronto lavoro sulle ombre toni tonalità molto oscure e lavoro recupero sulle alte luci eccoli qua andiamo avanti ho fatto questa foto ravvicinata a questa sieve semplicemente per vedere in termini di colore come si andava a comportare ora applico velocissimamente una color volante che ho fatto poco fa la stessa color da entrambi i file vi lascio valutare abbiamo a sinistra lo Xiaomi e a destra il Samsung nel caso di queste foto in buona luce abbastanza ravvicinate con delle texture non particolarmente complesse quindi il vantaggio dei megapixel viene fuori in favore di Samsung lo potete notare ne approfitto secondo me i tanti megapixel hanno senso proprio in questi casi anche a livello lavorativo possono avere senso perché sulla foto street è più probabile che vi vadano a impastare un pochettino tutto il risultato finale ma in fotografie così ad esempio se fate non lo so archivio per un museo e fotografate le opere perché per il check preesposizione dopo l'esposizione per vedere se ci sono stati danneggiamenti eccetera ecco lì c'è la necessità poi magari di andare a vedere nel dettaglio se una scheggiatura c'era prima piuttosto che no tornano utili in 50 megapixel ecco in quel caso sì quindi non sempre vanno io spesso li condanno perché sul sensore così piccolo fanno spesso disastri ma in realtà ci sono delle casistiche dove hanno molto senso altro scatto con la camera 3x fatto in una situazione volutamente di forte contrasto per mostrarvi ancora come il recupero delle alte luci anche sul sensore su un sensore secondario come quello della 3x va a fare un lavorone da una parte e un lavoro molto più discreto dall'altro nonostante siamo in DNG recupero delle alte luci su Samsung praticamente inesistente mentre sullo Xiaomi guardate lì come va a tirarmi fuori del dettaglio qui dietro dagli alberi e dai palazzi differenza abbastanza clamorosa sinistra Xiaomi destra Samsung come sempre è interessante vedere il lavoro che hanno fatto le due camere perché stavolta è molto simile andiamo a vedere siamo sui 12 megapixel da entrambe le parti piacevolezza se andiamo a croppare un pochettino vediamo come lavora il sensore sulla stessa risoluzione ecco lo Xiaomi ha una trama molto più pulita la pasta del sensore è molto più pulita e qui secondo me un po' è Samsung che carica proprio con la nitidezza nel suo file raw un po' è il sensore più grande che permette una maggior pulizia d'immagine sui toni scuri differenza sostanziale è ennesimo mio sfogo d'odio verso questo software di Samsung che tenta di farci vedere sempre tutto qui ci tenta ovviamente senza riuscirci però questo provoca artefatti fastidiosissimi e senza senso sul nostro soggetto di contro possiamo notare un'aberrazione cromatica fiola su le alte luci in alcuni punti sullo Xiaomi andiamo a vedere se proviamo a recuperare un pochettino di dettaglio nelle ombre cosa succede ovviamente è inutilizzabile da entrambi i lati cioè anche perché non avrebbe senso andare ad aprire le ombre su di lui in una foto del genere però lascio a voi giudicare la differenza non credo serva che io dica altro avanti con questo esempio Muciniano ribadisco ancora che se scatto in raw preferisco avere la resa dello scatto di sinistra perché so che queste ombre le posso andare a recuperare mentre se qui mi ritrovassi delle alte luci quasi sbruciacchiate rischierei di non poterle più recuperare camera 3x anche qui raw questo ritratto al mio collega Marco entrambi hanno sofferto questo colpo di sole sulla alla destra del soggetto vediamo anche qui il recupero guardate che differenza lo sfocato è più marcato sullo Xiaomi ripeto sensore più grande quando andiamo a zoomare siamo in modalità 12 megapixel da entrambe le parti però guardate che iper nitidezza che applica Samsung fastidiosissima che tira fuori degli artefatti della pelle che sembrano definizione ma non lo sono in realtà è soltanto una nitidezza strasparata a mille mentre su Xiaomi secondo me la resa in generale è più piacevole grande attenzione per questa lente proprio volta al mondo dei ritratti non a caso recupero delle alte luci che ve lo dico a fare ormai si è ben che capito superiore sullo Xiaomi te le lascio un po' qui valutate voi nei colori nell'incarnato forse anzi senza forse preferisco il Samsung Xiaomi ha un po' la tendenza ad andare sul rossastro lo vedo anche qui camera 1x nuovamente incredibile caso in cui lo Xiaomi ha esposto un po' di più e qui questa l'ho fatta puramente per farvi vedere come lavora il sensore guardate qua parità di condizioni e di risoluzione più o meno la pasta del sensore principale di Samsung veramente non mi piace proprio strana ma anche questo è frutto di una nitidezza iper marcata che applicano così la scelta loro avere una 10x a volte può essere divertente passava quest'aeroplanino sul Tevere con lo Xiaomi sono chiaramente super limitato mentre con il Samsung ho potuto ottenere questo poi dopo parleremo della 10x scatto a due ciclisti che sfrecciavano su Ponte Milvio da entrambe le parti il soggetto è abbastanza congelato meglio Samsung in questo caso al netto di tutti di tutte le preferenze che non vi sto a ribadire che vi ho detto negli altri scatti e che ritrovo anche qui secondo me qua abbiamo un pochettino di micro mosso sullo Xiaomi forse impercettibile se guardiamo lo scatto nella sua interezza e questa cosa mi si riconferma anche più avanti adesso vi mostro camera 3x il Samsung congela molto meglio il soggetto questo soggetto difficile in movimento sfocato maggiore sullo Xiaomi colori migliori sul Samsung anche qui quindi la camera 3x è tarata un po' meglio in termini di colori sul Samsung ribadisco ma soprattutto lo Xiaomi fa fatica a congelare il soggetto in questi casi ne ho ben due di queste ecco anche qui guardate che differenza Xiaomi a sinistra Samsung a destra il soggetto questo cane era abbastanza scalmanato anche se non non sembra non sono riuscito a cogliere l'attimo con lo Xiaomi svicciamo sulla modalità ritratto sapete che ve ne ho straparlato della modalità ritratto di Xiaomi perché c'è l'Aica che ha fatto un bel lavorone modalità che io non ho mai considerato nel mio utilizzo smartphone né a livello professionale neanche più di tanto così per hobby e divertimento quando mi ritrovo a scattare con lo smartphone vi dico sul Samsung ho la solita modalità ritratto che trovo un po' ben funzionante su tutti i top di gamma sullo Xiaomi con la scelta di questa modalità portrait di Leica ho qualcosa in più bokeh molto carino contrasto ovviamente parliamo di file già pronti qui jpeg che non vanno più toccati grossomodo ma cambia proprio la scelta della riproduzione degli incarnati dei contrasti della nitidezza cioè il file pronto che mi tira fuori mi piace molto ma soprattutto ha un livello di precisione pazzesco vi faccio vedere questo scatto ok molto difficile perché aveva questi capelli da ragazza che chiaramente impossibili quasi da riconoscere per il software guardate che differenza Xiaomi mi se ne è perso qualcuno però il software lavora in maniera molto furba Samsung guardate qua non lo so questo triangolo improvvisamente dove improvvisamente tutto è è nitido tipico delle modalità ritratto per questo le ho succede quasi sempre su questo Xiaomi per la prima volta ho trovato un livello di errore molto accettabile e qui penso che si veda ci siamo fatti questo viaggio su Lightroom dove mi sono concentrato principalmente sulla camera uno per e sulla 3x perché secondo me sono le due camere più importanti ad oggi che possiamo avere su uno smartphone non a caso sono le due camere su cui l'evoluzione tecnologica e i brand stanno puntando di più e sono proprio i due punti in cui secondo me Xiaomi distrugge Samsung voglio anche ricordarvi me lo stavo dimenticando che la 3x dello Xiaomi oltre a tutti i vantaggi che abbiamo visto ha anche questo sistema di lenti flottante quindi di base riusciamo a utilizzarla a sfruttarla quasi in modalità macro che rispetto alle schifezze che si fanno con l'ultra grande angolare è super divertente interessante possiamo ottenere degli sfocati pazzeschi e una qualità di scatto molto molto più alta quindi anche questo è un vantaggio secondo me in termini tecnici ma poi funzionali per la creatività non da poco da persona che lavora nel campo della fotografia se dovessi scegliere dopo aver fatto questi test queste prove sceglierei Xiaomi ad occhi chiusi vi lascio una rapida riflessione sulle altre due camere sulla ultra wide non mi ci sono concentrato più di tanto perché vi dico sono molto simili ed è una tipologia di lente che utilizzo davvero poco sullo smartphone per la 10x questo è un vantaggio indiscutibile di Samsung nello scorso video nella recensione del 13 Pro dello Xiaomi 13 Pro vi avevo detto che le 10x secondo me non hanno senso devo dire che utilizzandola in realtà mi rendo conto che anche se il livello qualitativo è molto più basso degli altri due sensori che abbiamo visto in questo confronto un senso c'è sempre nell'avere una focale così lunga così spinta tutto sta poi nel capire come utilizzarla ma si può fare un gioco di distanze di profondità di sfocati anche e soprattutto lato video allo stadio mi ci sono divertito tantissimo che è di fatto un valore aggiunto sia per un utilizzo semiprofessionale professionale se fosse il vostro caso sia anche che per un semplice utilizzo di divertimento tra l'altro ormai è così sottile l'utilizzo professionale inteso l'utilizzo che ne farebbe un fotografo rispetto all'utilizzo a livello professionale o però per lavoro perché oggi l'influencer che non è un fotografo ma che lavora con i propri scatti fatti con smartphone magari per brand eccetera fa la fotina la carica guadagna x soldi di fatto sta utilizzando lo smartphone per lavoro e avere in tasca un 240 mm e poter come dire sfruttarlo in tutto quello che può darci questa focale è un valore aggiunto per questo video è tutto io sono curiosissimo di sentire i vostri commenti ricordatevi sempre che questa è una mia lettura personale che vi vado a dare può essere che voi guardando queste foto avete avuto impressioni totalmente opposte nel caso parliamone senza problemi vi ricordo come sempre che per sostenermi potete seguirmi qua su youtube attivare la campanella commentare seguirmi su instagram su tiktok e sul mio sito www.vincenziodecaro.com dove vi aspettano dei preset Lightroom pensati appositamente per scatti da smartphone con un click potrete cambiare il look lo stile delle vostre immagini sono in offerta ancora a soli 5 trovate tutte in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video ciao